...e questa parla di noi, di chi si è chiesto perché, perché bisogna fare uno sento, che interessi ci sono. Gli annunci di apertura dei cantieri per il terzo valico ferroviario dei giovi... ...un'infrastruttura indispensabile, mi hanno commentato tutti i nostri e le istituzioni genovese. State tutti aspettando le buspe sui cantieri, come se si è chiesto, a un costo previsto di 6 miliardi di euro, di cui i due sono stanchiati, altre 4 sono da più. Un materiale di scavoli, di amianto, sappiamo bene che richiediamo sacrifici... ...la vita è un treno che scorre veloce, talvolta la coscienza resta indietro e non senti più la sua voce. Il tempo per pensare scompare, tu non ti accorgi che nel tuo cervello c'è un avvalso in corso tutti i giorni. Lo Stato va, come un Eurostar, col biglietto caro, ore di ritardo, non sai se ripartirà. Ma taglia, ricerca, pensioni, scuola e sanità, spende troppo in grandi opere di scarso attività. Nessuno sa come si sta con me, stiamo vivendo nelle valli minacciate dalla neocchia e dal cemento. Sento chi non conosce l'argomento dire assurità, altri preoccupati dire tanto si farà. Ma la verità è che non ci servono superiori, da sbalzare lo sguardo e dire forte che noi non ci stiamo. Questa terra è nostra e noi per lei lottiamo per difenderla, non è un mostro con il voto umano. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra. Le cose che raccontano non stanno più a sentire. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra. Possiamo più fidarci di chi ci governa. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra. Informati davvero e chiediti che c'è un senso. Questa terra è nostra, c'è chi la difende. Un futuro migliore che lo conquisti nel presente. Cacciano linee su delle mappe, traficano i panni nel cuore. Ma intanto chi se ne batte, ti può tanto tenere il costo più alto possibile. Dire a chi ci vive è una falla un po' vero simile. Si parte coi lavori, è troppo che si aspetta per le analisi sul territorio. Invece non c'è fretta, basta agire qui che ci sono soldi. Prima che i cittadini capiscano non restino più sordi. Non è riga dell'opera, piuttosto come dove alle alternative non è stata data voce. Così mentre l'Italia rischia quasi a fonda, stavano con Tav, Tretto, Varico e Gronda. Quindi chiediti perché i TG non te lo stegano. Chiediti perché tutti i politici lo negano. Chiediti perché fanno vedere la violenza. Chiedersi perché può fare la vera differenza. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra. La luci che raccontano non stalle più a sentire. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra. Possiamo più fidarci di chi ci governa. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra. Informati davvero, chiediti in San Cento. Questa terra è nostra e c'è chi la dipende. Un futuro migliore e te lo conquisti nel presente. Buon è credere davvero, che sia un'opera fondamentale. Ma non posso. Ci sono fatti troppo evidenti. No, mi chiedo. Quanti soldi per noi, per mettere in sicurezza le nostre balle, per le adozioni. E quanti per queste opi. Pensaci, pensaci. Grazie, grazie a tutti. Grande mitte.